Il villaggio a Coldiretti arriva a Venezia. La grande Kermes contadina sarà aperta da venerdì 28 giugno a domenica 30 con orario 9.22 e sarà soprattutto un luogo di comunità e di festa con i cittadini e le famiglie rappresentato dal mercato del cibo a chilometri zero e dallo street food unite ad aree dedicate al mondo delle imprese e ai nuovi servizi. Per la prima volta il Veneto ospita il villaggio di Coldiretti. Saranno tre giorni dal 28 al 30 giugno nella città storica di Venezia dove sarà messo letteralmente in mostra quanto di meglio Made in Italy l'agroalimentare italiano può offrire ma soprattutto quello che le aziende di Coldiretti oggi credono e riescono a fare con grande innovazione e con tanta fantasia. Ma è soprattutto un'occasione per avvicinare le comunità, i cittadini, gli abitanti e i turisti che animano la città di Venezia e per far capire ancora una volta al mondo intero che l'agroalimentare italiano è assolutamente fatto con altissima qualità dei nostri imprenditori e i nostri imprenditrici e che può diventare veramente un volano economico per tutto il paese. E i trevigiani saranno tra i protagonisti con 15 aziende agricole, 11 agri-chef che rappresenteranno gli agriturismi in terra nostra ed infine anche 15 giovani agricoltori. È una vettina straordinaria dove le nostre aziende avranno modo di presentarsi, di raccontarsi, di far conoscere i propri prodotti straordinari, le nostre eccellenze della marca trevigiana, in un panorama fantastico, in un ambiente esclusivo come quello di Venezia dove tanti turisti avranno l'occasione di conoscere quali siano le tante specialità che abbiamo non solo a Treviso, ma anche nel Veneto e nell'Italia.